Il nuovo sindacato Carabinieri sta partecipando a una serie di questi incontri, queste giornate e questa è una delle tante purtroppo perché noi stiamo continuamente girando per il territorio nazionale a dire ai cittadini che le nostre istanze sindacali non sono solo per tutelare i nostri uomini ma coincidono anche con le esigenze di sicurezza dei cittadini perché dare agli operatori sulla strada strumenti tecnici, strumenti legislativi e giuridici, bodycam, taser eccetera sono cose che vanno a aumentare la sicurezza del cittadino e non solo a garantire la sicurezza dell'operatore ecco perché in questo caso coincidono le due esigenze, le due istanze e il sindacato cercherà di far capire, il sindacato Carabinieri che esiste da due anni far capire ai cittadini anche questo e non solo a difendere i colleghi quando vengono massacrati immediaticamente come già sappiamo e poi magari ne parleremo stasera abbondantemente Quanto sarebbe servito al Carabinieri Placani di aver avuto a fianco il sindacato? Tantissimo, tantissimo. Il Carabinieri Placani nel 2001 si è trovato solo, schiacciato da tutto e da tutti lasciato e abbandonato da solo purtroppo e come abbiamo potuto vedere nelle immagini di chi nel 2001 vedeva non c'era mai un Carabiniere a difendere o a sostenere le istanze e le prospettive del Carabinieri Placani Talvolta si poteva vedere qualche sindacalista polizia ma dell'arma Carabinieri purtroppo non c'era traccia perché noi non c'eravamo, non esistevamo ... Grazie a tutti.